Ciao, sono Alessandro, ho 46 anni e sono un totodoro. Ho sempre praticato l'arte marziale del Muay Thai, anche se ultimamente mi sono un po' ingrazzato. La mia meta preferita per fare i viaggi è Cuba, non a caso mi sono innamorato di una cubana. Io sono Agna, ho 36 anni e sono cubana, sono la compagna di Alessandro. Nella vita mi dedico tempo pieno alla mia famiglia e quando capita faccio qualche lavoro di pulizia ed ufficio. Amo lo sport, amo il fitness, lunghe passeggiate, lunghe camminate e poi amo cucinare. E devo dire che oltre che bella sei anche molto brava. Il merito è tutto delle mie insegnanti, tua mamma e tua nonna. Quindi oggi si mangia romana? Beh, non esagerare, sono pur sempre cubana. Il nostro menù è un carnaval di sapori, quindi mescoleremo la cucina cubana a quella romana. Vediamo chi sono i nostri giranti. Scopriamolo. Scopriamolo. Fabiana e Giuliano, quando la competitività è di casa. Beh, allora dobbiamo incire, amore, per forza. Dai, 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 forza, ci trapparemmo. Grazie a tutti.